oggi è il primo agosto Anna Nicola? Sì, ho visto. Presente. Pagli Antonio? Sì. Presente. Manzillo Diangelo? Sì. Presente. Del Piazio Francesco? Sì. Presente. Pagli Antonio? Sì. Presente. Simone Leonardo? Sì. Presente. Grandi Parini? Sì. Presente. Presente. E pericola? Sì. Presente. Marazza Antonia? Assente. Sbanno Giuseppe? Presente. Cerino Diangelo Diangelo? Sì. Presente. Desi fuori di scendio? Assente. Scaletta Costino? Assente. Perlino Diangelo? Assente. Tardino Borrano? Presente. Piacisce Raffaele? Assente. Sbannato Vito? Assente. Pagli Antonio Francesco? Presente. Annicchiaio Giuseppe? Presente. E presente anche il Dottor Stavera? Quindi è venuto da 16. 16. Presente la salute. Quindi primo punto all'ordine del giorno. Trattasi di una gratificante e quindi la deliberazione del giugno principale numero 149 del primo giugno 2012. Prima variazione del bilancio di previsione che è recezione stavolata del 2011. La parola. Trattasi esclusivamente di una variazione del bilancio. Basta per coprire la spesa di munizioni che avevamo per le macchine del giugno urbano. In me sono stati sparti uno spostamento di 10.000 euro da un capitolo all'altro per coprire la spesa del riscatto delle macchine del giugno urbano. Chi chiede di intervenire? Mentre votazione un punto, chi vota l'ordine del giorno? Una vita. Votazione per il resto del giugno. Secondo punto è il proprio giugno.